Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Una puttana Non lo so Ma lui è un po' sgravato, li fa un po' di vitali Però non potevo evitarlo Ma mi vado a sega adesso? Ben tornato, il mio nuovo sub preferito Gianco in fiamme, grazie per i 27 Germania, terzino sinistro Bayer Il fratello di Hernandez Colpo della strega Troppo sincero Nomina il nome di un UFO cinese Ma che tins mio Non capisco se sta guardando Perché quando dà le risposte in cinese Sta sempre guardando in una Ma che cazzo Ma che è notico? Ditemi che c'è una roba integrale di questa cosa Ma che tins mio Un milione e mezzo dei follower Bravo Pischello mazzo Ha pure dei begli edit Ma io non sto capendo nulla veramente ragazzi Aiutatemi Potresti dire una frase ai miei fan In Italia Che sono italiani Io sto facendo agli italiani comunque questo Ah ok Un saluto a tutti italiani Per i 10 Mannaggia la Madonna Mannaggia a Cristo Mannaggia quel porco di Dio Dio porco Dio cane Dio Dio porco Dio cane Mannaggia a Cristo Mannaggia a Cristo Mannaggia a Cristo Mannaggia alla Madonna Dio cane Dio porco Dio Porco Dio Tutta la mia vita a toccare le 50k Eeeh Bravi ragazzi E' morto Napolitano Peccato Preferivo morisse un Napoletano Non devi dire così Allora ragazzi Allora quando uscirà scarta tutto usciranno i giocatori Traxler C'era bisogno di dincere così C'era bisogno di dincere così C'è nel senso Draxler Me fa piacere magari che C'hai stile Non lo so Non lo so eccola Da tanto che ti vedevo Carvacial 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 Marta Torrejean Ter Stegen nel 50k Basta per favore E poi mi dicono pure che sti biscotti Sì ma 11 euro nel 90 è biscotti Pensa io che ne ho inviato una wishlist e li sto tancando sempre Oh ragazzi sentito stupido Io c'ho il quarto superiore da privato Cioè io va a parlare italiano Stavo esercitando la resistenza passiva Cioè se va a fare Io non capisco questa cosa Tu magari stava per terra Era per terra Non lo so era inerme Dimu qua che cos Stava esercitando resistenza passiva I cazzi a capi Resistenza passiva che non si è veramente Ah no ci sta pure l'anteprima Famosi l'anteprima al volante Un attimino questa è quella che mettete il giocatore che porta bene CoC Messi Almeria Tu sei una brava persona Proprio come Gianmarco Io ti voglio tanto bene Ma come Blur tu devi essere cremato Porco Dio Come mai? Perché mi rompono il cazzo Mi dicono che cosa ne pensi di Fuse Gamer Gianmà a me Che cosa ne penso di Fuse Gamer Gianmà a me A me E perché poi La faida con te Ti fanno che ti ha minacciato Fuse Gamer Ma se uno mi minaccia io Cioè qualche colpa ho Scusa se mi minaccio Niente però Sei sempre in mezzo E quindi me lo chiedono a me Perché sono amico tuo Ti giuro che non ho fatto nulla Marzo Sono solo stato minaccio Eccolo Porco Dio lo rinvita Alle corse Lo rinvita Houston Desha Chi è? Mannaggia in Cristo Tutta ogni donna che vedono Lo fanno pure Anche anch'io quando nel 1700 Hanno deciso Ed un straggente Sanchez Detta anche Sofie Soperto Uno che lascia a terra Un altro che ha preso un colpo Superto Ma che cazzo Blur Ma che cazzo Che carino frate Guarda Non è abituato a ricevere Sabre ali Caruccio Caruccio Veramente Mi ha sempre piacere frate Aiutare un streamer My man Eh scusate raga Ho fatto un errore Cioè tanto vabbè frate Sbagliato in tutto questo C'è qualcosa che proprio non va Continuiamo Sì sì Benvenuti Ragazzi Ragazzi ve lo dico Ragazzi che mi state guardando Non odio le donne Ve lo dico adesso Non odio le donne No lo voglio mettere Lo voglio mettere subito in chiaro No io Io Ragazzi Cioè è letteralmente Sì come una live Che inizia con L'isario Riccardo Come si chiama Del cerbero podcast Cioè inizia male Continua peggio Sta che sbaglia No Magari ha fatto fallo Ma stava in vantaggio E poi è costretto Ad aggrapparsi A vinghiarsi All'ultimo uomo E arriva il cartellino rosso Rosso diretto per Gio Che piai No vabbè Ci avremo un quarto italiano Random Che si prenderà Gli insulti Vabbè Barto panze Andrà così No ci sono figlie Quindi Allora Camlink Si mette così Sì ma tipo Non c'è più spazio No 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 No